43esima edizione che non diceva lei, sono 25.000 metri quadri coperti per celebrare la primavera, celebrare la bellezza dei fiori e delle piante. Oltre a questo, quest'anno grazie ai nuovi padiglioni abbiamo potuto inserire cucinare, quindi anche chi è a cucinare può gioire del fatto che 70.000 persone in nove giorni vengono a vedere. Parla di 70.000 persone in media nelle precedenti edizioni il presidente di Pordenone Fiere Renato Pugliatti, ma i numeri per questo 2024 potrebbero crescere ulteriormente proprio perché accanto ad Orto Giardino, tra i vari eventi collaterali in programma alla Fiera di Pordenone dal 2 al 10 marzo, nei padiglioni 5 bis e 5 ter, si terrà cucinare, salone dell'enogastronomia di qualità ricco di show cooking e degustazioni con la collaborazione di Io Sono FWG. E di conseguenza alla Fiera di Pordenone non arriveranno solo gli amanti dei giardini e del verde, ma anche coloro che apprezzano il buon cibo. Ma tornando ad Orto Giardino, che sarà protagonista con oltre 200 stand commerciali curati da vivai e fioricoltori, va ricordato che l'evento è anche un appuntamento da non perdere per tanti operatori professionali. Architetti paesaggisti, vivaisti e progettisti del verde pubblico possono trovare nuovi spunti e nuovi stimoli grazie al Festival dei Giardini. Il Festival dei Giardini è una competizione dove dei progettisti, in base ad un bando dove all'interno c'è un tema che varia di anno in anno, loro propongono dei progetti che siano inerenti a questo tema e poi una commissione seleziona i migliori progetti che poi verranno realizzati all'interno dei padiglioni che troverete qui a Pordenone Fiere. Il tema scelto per questa edizione è Oltre lo sguardo, ispirazione d'artista. È un tema dove ho voluto unire due cose che io amo molto, cioè l'arte e la primavera e allora ho detto perché no facciamo la primavera nell'arte e quindi l'importanza poi del dipingere, quindi del saper osservare la natura. Aspettiamo tutti a questa nuova edizione di una grandissima cucinare insieme a Orto Giardino.